Si è davvero sfiorato l'incidente ieri sera lungo l'autostrada dei Fiori allo svincolo di Imperia Est. Un camion con targa straniera ha infatti imboccato lo svincolo contro mano, inserendosi nella corsia di uscita dei veicoli provenienti da Genova. Per fortuna l'autista del mezzo pesante si è accorto subito del grave errore compiuto e si è fermato sulla rampa e per altrettanta fortuna i veicoli in uscita sono riusciti ad arrestarsi per un tempo, evitando uno scontro frontale con il mezzo pesante. Il camionista ha poi dovuto compiere una serie di manovre per retrocedere e tornare a imboccare la giusta via di accesso in autostrada. L'inconveniente si è verificato nei pressi della diramazione di ingresso in autostrada di fronte alle piste di accesso per 20 miglia a Genova. Essendo il camion sulla pista di uscita, l'autista ha potuto retrocedere senza correre il rischio che altri veicoli sopraggiungessero nella direzione opposta.